Tutto qui? Sì, le serve qualcosa in particolare? Il cellulare, stavo vendendo il cellulare, però non ho trovato quello che volevo, volevo un cellulare. Va bene, modello? No, io faccio il muratore, però anche tu sei carino. No, intendevo, allora, cellulare? Io prendo il cellulare, però visto nel vetrino non è che... Ok, modello? Una volta feci un servizio fotografico, però è rimasta una cosa così, una tantum. La vorrei un po' più spessum.